Seguendo le strade dei sapori e dei profumi che legano l'enogastronomia alla tradizione e alla terra, si arriva in Puglia, regione calda, accogliente, ricca di sole, mare e sapori. La Puglia è una delle regioni più straordinarie al mondo, una terra antica, intrisa di tradizioni. La valorizzazione delle sue ricchezze passa dagli istituti alberghieri che preparano i professionisti del futuro in grado di promuoverle al massimo livello. E allora scegli una scuola al passo coi tempi. Scegli gli istituti alberghieri di Puglia, istruzione giusta per i professionisti del futuro.